Musica Padura Sassano, chiuso al transito il tratto del Ponte Tanagro in località Caiazzano, inclinazione del piedritto Ponte Instabile, incendi boschivi nascono le squadre dei volontari della regione Campania, giovani il direttore della banca Montepruno Albanese scrive ai ragazzi dell'associazione sbagliato pensare a voi solo come futuro siete il presente, sana Consilina la fattoria didattica dell'associazione Una Speranza Onlus, Salernitana Napoli Colantuono dobbiamo giocare la partita senza paura. Ben trovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News, in apertura andiamo a Padula il Ponte Tanagro sulla strada provinciale 51 è pericolante a causa dell'inclinazione del piedritto accertata dai tecnici della provincia di Salerno, da ieri è stato chiuso al transito il Ponte di località Caiazzano che viene così divisa in due in certi i tempi di ripristino, chiusa al traffico come già anticipato da alcuni giorni la strada provinciale 51 che collega Sassano e Padula nella frazione Caiazzano, una strada particolarmente utilizzata dai veicoli e che a questo punto creerà non pochi disagi ad automobilisti e trasportatori che dovranno percorrere un tratto molto più lungo con il percorso alternativo individuato sulla strada provinciale 11 Trinità di Sala Consilina Silla. Una necessità però, secondo quanto è emerso anche a seguito della verifica effettuata sul posto dai tecnici della provincia a metà ottobre e che avevano constatato pericoli per la tenuta del ponte che sovrasse il fiume Tanagro. Secondo quanto riportato nell'ordinanza emessa dalla provincia di Salerno, in occasione dei sopralluoghi effettuati e come la comunicazione dell'11 ottobre scorso da parte dei tecnici incaricati, è emerso che il ponte Tanagro presenta l'inclinazione del piedritto, ossia un elemento portante verticale che sostiene la strada, con lieve fuori piombo, ossia non perfettamente perpendicolare rispetto agli altri. È stato inoltre rilevato anche lo scalzamento del basamento di fondazione delle pile, che costituiscono il punto di appoggio delle travate del ponte, che, si legge sull'ordinanza, avvalorano l'ipotesi di una rotazione in atto degli elementi strutturali del ponte. Da qui la decisione di emettere ordinanza di interdizione al traffico sull'arteria, al fine di evitare i rischi di crolli, mettendo quindi in pericolo l'incolumità pubblica. Nella giornata di ieri l'ente provincia, come già preannunciato, ha emesso l'ordinanza che è stata resa esecutiva nella stessa giornata a partire dalle ore 15, con il posizionamento inizialmente di barriere metalliche, poi sostituite nella mattinata di oggi da barriere New Jersey in calcestruzzo, al fine di evitare l'attraversamento del ponte. Il percorso alternativo, come spiegato nell'ordinanza, prevede il passaggio sulla strada provinciale 11 o sulla SS 19. Nel parere tecnico viene evidenziata la necessità di effettuare opere di consolidamento del ponte prima di poter procedere alla riapertura del tratto, interventi di messa in sicurezza che però al momento non sono ancora stati programmati. Andiamo ora a Polla, dove è appena stato approvato un nuovo regolamento di polizia urbana che disciplina diversi aspetti del vivere quotidiano. Tra le novità c'è l'applicazione del cosiddetto daspo urbano, ma vediamo i dettagli nel servizio di Rosa Romano. Polla ha un nuovo regolamento di polizia urbana. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la proposta avanzata dall'assessore alla polizia locale Vincenzo Giuliano. Uno strumento importante, ha spiegato l'assessore, per regolare i corretti rapporti del vivere civile nella nostra comunità. Fondamentale per mettere in condizione le forze dell'ordine di applicare il cosiddetto daspo urbano, ovvero la possibilità di infliggere l'ordine di allontanamento per 48 ore a coloro che commettono reati di ubriachiezza molessa o di spaccio di stupefacenti. Polla, sempre più sicura, ha commentato il sindaco Massimo Loviso, grazie ad un lavoro di profonda sinergia tra i nostri uffici, la Giunta e il Consiglio, sono certo che i nostri concittadini gradiranno le novità, norme di buona educazione che permetteranno a tutti di vivere nel rispetto del prossimo. È un nuovo corpus organico di regole che disciplina infatti diversi aspetti del vivere quotidiano, con sanzioni proporzionate alle infrazioni, per promuovere il rispetto dei beni comuni e del decoro urbano, oltre che delle regole commerciali. Il nuovo regolamento disciplina il rispetto dell'ambiente, degli spazi pubblici, della differenziata, le modalità di conduzione degli animali e le modalità con cui dare cibo ai randaggi, gli orari per la musica e per i rumori da lavorazioni. Redatto dalla Polizia Locale di Polla, come spiega il comandante Andrea Santoro, alla redazione della proposta, poi votata dal Consiglio, ha lavorato tutto il personale della Polizia Locale. Ognuno dei miei collaboratori, dice, ha offerto un contributo nella predisposizione del testo ed è frutto dell'esperienza quotidiana. Forse i cittadini non lo sanno, ma hanno indirettamente contribuito a scriverlo, perché ci siamo ispirati alle tante segnalazioni che ogni giorno ci arrivano proprio da loro. Sono entrati in servizio da più di dieci giorni e la loro presenza sulle strade di Salerno non è passata inosservata. Stanno fioccando multe sui parabrezza delle vetture dei cittadini salernitani con la presenza dei 24 nuovi vigili urbani che, dopo aver superato il concorso RIPAM della Regione, sono entrati a far parte dell'organico della Polizia Municipale Locale. Vediamo. È guerra alla sosta selvaggia e alla doppia fila nel Comune Capoluogo, dove da oltre dieci giorni si sono messi al lavoro 24 nuovi vigili urbani. Si tratta delle persone che hanno vinto il concorso RIPAM indetto dalla Regione Campania e, a tempo indeterminato, entrano a far parte del Corpo della Polizia Urbana di Salerno, guidata attualmente dal comandante Rosario Battipaglia, che fin dal primo giorno di insediamento, al vertice dei caschi bianchi di Salerno, non ha nascosto le sue perplessità sull'esiguo numero di vigili a sua disposizione per tutelare una serie di servizi nel Comune Capoluogo. Basti pensare che nel 1989 i vigili erano 286 ed oggi, 30 anni dopo, è con una città più grande e con maggiori problematiche. Basti pensare, per esempio, al presidio necessario per luci d'artista ad altre competenze, anche con 24 vigili urbani in più, Salerno ha 209 risorse a disposizione. Ma i nuovi caschi bianchi non sono passati inosservati e non certo per merito delle pettorine fluorescenti che, al momento, sostituiscono le divise ancora non pronte, ma per la quantità di multe che stanno fioccando sui parabrezza delle vetture degli automobilisti indisciplinati. I nuovi vigili presidiano la correttezza della sosta da una parte all'altra della città e si vedono anche spesso nella parte orientale. Ed ora, come spesso accade in questi momenti, la città, che aveva chiesto più sicurezza e più controlli, si divide tra chi è soddisfatto e chi si lamenta delle multe. Saranno costituite in Campania avere proprie squadre di volontari interamente dedicate al servizio dell'antincendio. Saranno autonome e svolgeranno un pubblico servizio. È stata approvata la delibera di giunta regionale. Vediamo. Viene potenziato in Campania il ruolo del volontario organizzato di protezione civile nell'attività di pattugliamento, quindi di prevenzione, e di lotta attiva contro gli incendi boschivi. È stata approvata dall'aggiunta regionale la delibera con la quale vengono costituite vere e proprie squadre di volontari interamente dedicate all'antincendio. Saranno autonome e svolgeranno un pubblico servizio. Il progetto, stilato d'intesa con la consulta del volontariato, permetterà di garantire una risposta sempre più tempestiva alle emergenze e un maggiore coinvolgimento di volontari che possano agire in sinergia con tutte le altre componenti del sistema regionale di protezione civile. Le squadre che interverranno sul luogo degli incendi saranno sempre attivate dalla sala operativa regionale unificata di protezione civile oppure dalle sale operative provinciali e svolgeranno attività di spegnimento in maniera autonoma al pari delle altre squadre istituzionali che già operano. Le squadre saranno formate da volontari iscritti alle organizzazioni, formate attraverso specifici corsi della scuola regionale di protezione civile o dei centri di servizio per il volontariato, sia per diventare direttore delle operazioni di spegnimento che addetto all'antigendio boschivo. I nuovi volontari da avviare i corsi per diventare operativi sul campo non dovranno superare i 55 anni di età, mentre l'attività di lotta attiva o di direttore delle operazioni di spegnimento potrà essere svolta fino a 65 anni. Per diventare direttore delle operazioni di spegnimento si deve possedere la laurea in materia forestale, agraria e ambientale oppure un'esperienza pregressa di almeno 5 anni in ambito forestale e nel settore antigendio boschivo. I volontari delle nuove squadre potranno anche svolgere attività divulgativa delle buone pratiche di protezione civile nelle scuole e supportare le sale operative. Con una lunga lettera, il direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, ha voluto fare i suoi auguri al nuovo direttivo dell'Associazione Montepruno Giovani. Nello scritto albanese ricorda come pensare che ai giovani bisogna lasciare spazio solo per pensare al futuro è un errore. I ragazzi e le ragazze di oggi devono essere protagonisti del presente. Vediamo. Un sogno che si realizza è così che vede oggi l'Associazione Montepruno Giovani il direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, che a distanza di alcuni giorni ha voluto esprimere il suo orgoglio per il suo dalizio che a quasi 10 anni di vita si è trasformato subito in una realtà associativa ed aggregativa capace di rendere i giovani protagonisti del presente e non solo del futuro. In una lunga lettera, il direttore albanese torna sull'appuntamento che si è svolto presso il Teatro Scarpetta Sala Consilina dell'Assemblea della Montepruno Giovani che è stata anche occasione per il passaggio del testimone da Antonio Mastrandrea a Sebastiano Greco in qualità di presidente del suo dalizio composto da giovani volenterosi e capaci che puntano ad essere protagonisti nella costruzione del futuro ma come sottolineato da albanese anche dal presente. Non è per nulla un caso, scrive il direttore generale della Banca Montepruno che l'evento della ripartenza dopo le note limitazioni abbia visto come protagonisti i nostri giovani. Non è un caso che alla parola ripartenza con un appuntamento finalmente in presenza abbiamo voluto collegare proprio l'Associazione Montepruno Giovani. L'associazione è nata nel febbraio del 2012 su forte impulso dello stesso direttore albanese di coinvolgere i giovani nella vita sociale delle comunità è stata sempre esempio di come le nuove generazioni abbiano voglia di dimostrare le loro indubbie qualità e che vogliono mettere queste capacità al servizio del loro territorio. Immaginare che loro siano solo il nostro futuro è un errore, scrive albanese perché quando si parla di futuro si fa riferimento ad un termine ormai diventato incerto e spesso anche lontano. Concentriamoci sul presente perché solo pensando ad oggi riusciremo a costruire un domani migliore. Sottolineando la gioia nel vedere la grande partecipazione dei giovani all'evento di Sala Consilina Michele Albanese ha evidenziato che se davvero si pensa alla ripartenza bisogna dare necessariamente spazio ai giovani spazio che come Banca Montepruno è stato concesso proprio dal direttore albanese che nella sua attività ha messo sempre al primo posto le qualità dei giovani e i risultati eccellenti raggiunti negli anni dimostrano come la sua intuizione sia stata lungimirante ed efficace. Concetti questi che è necessario diffondere per Albanese concedendo più spazio ai giovani per esprimersi ed anche perché no sbagliare. Ciò che abbiamo cercato di fare nel tempo, spiega Albanese, è proprio questo creando con l'Associazione Montepruno Giovani una vera e propria palestra dove allenare potenzialità promuovendo i valori sani della vita, crescendo gli uomini del domani. Lasciando i suoi auguri al nuovo direttivo ed in primis al presidente Sebastiano Greco il direttore della Banca Montepruno ha sostenuto con forza e certezza che il tempo sarà capace di premiare le loro qualità, il loro spirito di sacrificio e l'amore con cui operano. Dovrà essere nostro compito accompagnarvi, consigliarvi, dandovi occasioni e da genitori poi saremo soddisfatti nel vedervi sorridere e protettivi se sbagliate. La ripartenza, dichiara in conclusione Albanese, sarà una vera ripartenza se nel motore batterà il cuore dei nostri giovani. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Andiamo ora a Sant'Arsenio dove il comune rifà le aiuole di Piazza Pica e arriva un'ordinanza per tutelare il decoro urbano. Vietato raccogliere fiori, calpestare le aiuole, danneggiare gli arredi e giocare a palla. Vediamo. Il comune di Sant'Arsenio rifà le aiuole in Piazza Domenico Pica e per tutelare il decoro urbano arriva un'ordinanza che vieta di danneggiare gli elementi di arredo. Nel documento si legge che le aiuole centrali della Piazza Domenico Pica sono state oggetto di rifacimento, sia del tappeto erboso che con la messa a dimora di piante e fiori e del relativo impianto di irrigazione. Per conservare le opere realizzate, al fine di tutelare il decoro urbano e l'ambiente, si è ritenuto necessario regolamentare la viabilità pedonale, sia sulla piazza che sulle aree vicine. L'ordinanza dunque vieta la circolazione di cani senza guinsaglio e museruola e obbliga alla raccolta delle deiezioni canine. Nelle aree gioco è comunque vietato l'accesso ai cani e ad altri animali, è vietato danneggiare e imbrattare elementi di arredo, calpestare e attraversare le aiuole fiorite, danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parte di essi, danneggiare e imbrattare la segnaletica e gli steccati posti a protezione del verde pubblico. È naturalmente vietato abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta, effettuare scavi non autorizzati, raccogliere e asfortare fiori, semi, frutti, terriccio o moschio. Vietati anche i giochi come pattini, pallone e bocce, che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione. L'ordinanza vieta infine il bivacco, inteso come sdraiarsi, dormire, stazionare o consumare cibi e bevande in maniera scomposta e contraria al decoro civico. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 42 a 173 euro, oltre al ripristino dello stato dei luoghi. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg, andiamo a Sala Consilina, dove l'Associazione Una Speranza Onlus lancia la sua fattoria didattica con tante attività rivolte ai bambini, laboratori su prodotti come pane, olio e conserve, e incontri con gli animali. Vediamo. L'Associazione Una Speranza Onlus di Sala Consilina attiva un nuovo progetto rivolto alle scuole, una fattoria didattica per imparare tante cose su prodotti come olio, pane e conserve e per incontrare gli animali. L'Associazione, che nella sede di Sala Consilina gestisce un centro di urno e residenziale per persone disabili, ha potuto realizzare, con il sostegno della Fondazione Conil Sud, attraverso il finanziamento del progetto Officina dell'Inclusione, un percorso dove l'agricoltura può essere uno strumento didattico per le generazioni future, ma anche un incentivo in termini di inclusione e integrazione sociale per le persone con disabilità di carattere socio-riabilitativo. La fattoria didattica dunque si apre alle scuole del territorio, che sono state invitate dalla Presidente di Una Speranza, Don Vincenzo Federico, a prendere in considerazione una visita guidata. Tante le attività dedicate ai bambini, dall'incontro con gli animali alla scoperta dell'allevamento delle api e la raccolta del miele, passando per i laboratori creativi di confetture e conserve per arrivare ai processi di produzione che dall'olivo e dalla farina portano rispettivamente all'olio e al pane. Le scuole potranno scegliere di fare attività autunnali fino a dicembre oppure primaverili tra marzo e giugno. I bambini, dopo aver preso parte alle varie iniziative didattiche della giornata, chiuderanno la visita con il saluto agli animali della fattoria, portando loro da mangiare. E intanto ad Agropoli nasce l'albo delle associazioni per l'individuazione e il riconoscimento degli organismi associativi operanti sul territorio, favorendone così la partecipazione alle attività culturali e sociali. E' stato pubblicato l'avviso per l'adesione all'albo comunale delle associazioni del Comune di Agropoli. Si tratta di un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola, per consentire l'individuazione e il riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale, favorendone la partecipazione alle attività culturali e sociali. Possono chiedere di essere incluse nell'elenco tutte le associazioni create per fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo, purché siano regolarmente costituite. Queste dovranno avere uno statuto e un atto costitutivo che dimostrino l'assenza di fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e il perseguimento di scopi compatibili con i fini istituzionali dell'ente pubblico. Sarà poi l'area turismo, promozione, eventi, cultura e sport a provvedere alla realizzazione dell'albo, dunque all'iscrizione. Finalmente l'albo delle associazioni è in realtà. Si tratta di una proposta a cui lavoravamo da tempo e dopo l'approvazione del regolamento da parte dell'Aggiunta e del Consiglio Comunale abbiamo completato l'iter per l'istituzione con la pubblicazione dell'avviso per l'adesione, afferma il sindaco Coppola. La formazione dell'albo delle associazioni, aggiunge, è una novità importante, finalizzata a favorire sempre di più la partecipazione degli organismi associativi alla vita sociale e culturale della nostra città e rappresenta anche un riconoscimento all'impegno costante delle associazioni nel tenere vivo, attivo e coeso il tessuto sociale del nostro territorio. Sul sito istituzionale del Comune di Agropoli è presente l'avviso con la modulistica per l'adesione all'albo. E ora passiamo allo sport con il calcio. Domani alle ore 18 la Rechi sarà a teatro del secondo derby in massima serie tra Salernitana e Napoli dopo quello giocato più di 70 anni fa al Vestuti. Granata cercano la terza vittoria in campionato dopo quelle contro il Genoa e il Venezia anche se sulla carta è un derby impari dal punto di vista della classifica. Ma ascoltiamo Stefano Colantuono che è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani. Vediamo. Napoli è un collettivo importante non è solo questi due giocatori e quindi per mettere in difficoltà il Napoli per cercare di contenere la grande forza che ha questa squadra che tra l'altro sta in un momento di grazia ma è da parecchio che sta in un momento di grazia perché il campionato le ha vinte quasi tutte devi fare una partita da squadra devi fare una partita da importante non puoi sbagliare nulla perché sono forti c'è poco da fare però da partita devi provare a giocarla con quelle che sono le tue caratteristiche con quelle che sono le tue qualità cercando di andare a lavorare molto nei dettagli perché secondo me i dettagli in questa partita per quello che riguarda noi faranno la differenza ci vogliono una serie di ingredienti però ripeto la partita va giocata non puoi pensare che il risultato è già scontato perché faremo un gravissimo errore così come faremo un grande errore se inconsciamente penseremo che non avremo nulla da perdere no c'è sempre da perdere anche se il Napoli oggi insieme al Milan è la squadra più forte dell'otto perché è prima classifica però noi la partita dobbiamo pensare a giocarla con quelle che sono le nostre qualità con quelle che sono le nostre caratteristiche sapendo che dovremmo fare grande sacrificio ma in questo campionato se non ti sacrifichi non porti a casa nulla al di là dell'avversario io credo che la squadra respiri insomma quest'aria perché lo sanno bene che ci sono delle partite che sono diverse dalle altre le partite sono tutte uguali sì è vero sono sempre tre punti però sono diverse questa chiaramente è una partita leggermente diversa che non è che deve cambiare quelle che sono le come si dice la nostra attitudine non è che possiamo cambiare atteggiamento da una partita all'altra però questa è leggermente diversa dalle altre perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che la piazza la sente molto noi dobbiamo fare una partita cagliarda dobbiamo far vedere che vogliamo giocarcela vogliamo stare bene in campo rispettiamo abbiamo veramente grande rispetto del Napoli il Napoli è la squadra più forte del campionato secondo me in questo momento è quella anche che gioca meglio che è continua che ha fisicità che ha qualità è una squadra veramente brava però noi dobbiamo fare una partita senza ripeto senza pensare che non ci abbiamo nulla da perdere io lo so perché è un po' galleno e spesso quando capitano queste partite inconsciamente viene fuori sta frase vabbè ma tanto con queste si perde no si gioca con queste si gioca poi è chiaro loro sono più bravi di noi lo dobbiamo riconoscere però noi la partita la dobbiamo fare una partita cagliarda una partita attenta una partita come ripeto che va a curare i dettagli che va a curare i particolari e poi a volte succede anche che è impensabile però noi ci dobbiamo lavorare su sta cosa e con il calcio termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi che vi ringrazio per averci seguito